Creativo è il controaltare di quello che abbiamo definito nell'altro video, qualsiasi intellettivo, quando parlavo della mia formula per l'intelligenza, avevo detto che il pensiero creativo va a controbilanciare l'intelligenza cosiddetta convergente, che si concreta nel trovare la soluzione migliore, quella attesa da chi formula il quesito, da chi crea l'item in un test del qualsiasi intellettivo. Viceversa, il pensiero creativo potrebbe essere connotato dalla capacità di trovare tante soluzioni, tutte più o meno plausibili, con vari gradi differenti di correttezza, quindi possiamo dire che il numero di soluzioni è un indice di poter essere creativi e il numero di campi che vanno a essere toccati, anche esso va a contribuire. C'è un test specifico che appunto valuta questo tipo di abilità, insieme anche alla precisione e al grado di dettaglio delle risposte che noi forniamo. Quindi abbiamo che, diciamo, per pensare in maniera più creativa dovremmo riuscire ad avere tante idee, possiamo buttarle giù su un pezzo di carta, io mi sono poi segnato, anch'io ho fatto questo, quindi con un flusso di pensiero, le varie intuizioni che ho avuto per potervi aiutare a creare appunto uno strumento, a creare un metodo per poter migliorare la vostra creatività giorno per giorno, allenandovi quotidianamente o quando non avete tempo, perché il vantaggio dell'allenamento del pensiero creativo è questo, possiamo farlo ovunque, mentre siamo in fila al supermercato, alle poste, prima di addormentarci o quando vogliamo. Allora, mi sono segnato le mie idee, scusate, per la prima volta leggo però, ho preso appunto degli appunti, ho preso delle note così, un pochino estemporane. Allora, secondo me è fondamentale essere già nelle condizioni ottimali prima, quindi sfruttare quando siamo nelle condizioni di avere un contesto ottimale, di tranquillità, per esempio mi trovo molto bene la sera, la notte per poter pensare. Poi la curiosità, quindi porsi tante domande, essere curiosi in ogni cosa che facciamo, per interagire appunto, anche se non altro migliorare la memoria, perché poi andando a ricordare il nostro pregresso, le nostre conoscenze, richiamandole alla mente sviluppiamo anche l'abilità appunto di memorizzarle meglio. A notare tutto su un quaderno, l'ho appena detto, quindi il flusso di pensiero e prendersi il tempo giusto. Il tempo non è detto che debba essere per forza concentrato in un unico momento, ma va bene anche splittarlo durante il giorno, però essere sicuri di prendersi abbastanza tempo per pensare, quindi mettere da parte i propri impegni e quando si decide di rilassarci, di ragionare in maniera creativa, essere tranquilli. Poi, ho già detto le soluzioni multiple, quindi quando vi viene posto un quesito, anziché cercare la soluzione ottimale, quella che si attende soprattutto l'altra persona, in un test del qualsetto intellettivo, c'è sempre generalmente un'unica soluzione che è quella che si attende la persona che lo crea. Mentre noi possiamo anche fornire delle soluzioni così un pochino al limite, divergenti, per quello c'è la lavagna dietro, poi vi mostrerò un giochino. Forse qualcuno lo conoscerà già, però lo voglio modificare e quindi vi proporrò un quesito. Potete svolgerlo mentre seguite questa live, che durerà perlomeno un'oretta, un'ora e mezza, e quindi nel frattempo possiamo allenarci in diretta. Poi modificare i nostri schemi mentali pregressi per arrivare addirittura a cambiare il nostro modo di pensare. Non è che pensare in maniera creativa sia per forza un plus, ma certamente può allargare i nostri orizzonti e aprirci a nuove opportunità. Quindi per cambiare il nostro paradigma dobbiamo fare qualcosa di insolito, dobbiamo impostare la nostra maniera di ragionare in un modo che non c'è congeniale, almeno per forzare ad andare oltre il limite così strutturale che abbiamo. Per fare questo possiamo avvalerci di persone che già hanno fatto questo passo, o comunque leggere, informarsi per prendere degli spunti. Cioè si ruba e poi si rielabora, non è che si copia pari pari. Quindi per esempio anche leggere un libro, anche leggere un libro tecnico, dei metodi, non lo so. Sono uno youtuber, voglio essere creativo, posso anche vedermi dei video di altri youtuber. Poi chiaramente non devo copiarli, non devo iniziare, bella ragazzi, sono il vostro fan. Eh, no. Così no. Dovete cercare poi di personalizzare il messaggio in base a quello che è il vostro modo di comportarvi, di interagire, di pensare. Ma è importante anche curubare qualche idea. Qui e creatività, l'ho già detto in altri video, hanno una correlazione abbastanza forte, fino intorno ai 120 punti in direzione standard 15. Un livello di rarità che, cioè questo quotiente intellettivo pari o superiore a 120, ce l'ha generalmente una persona su 5, quindi almeno 120 o superiore. Non è un livello così irraggiungibile. Volendo esagerare, nei casi più estremi, gli autori, gli studiosi di questo argomento sono arrivati a teorizzare una correlazione stabile, fino intorno ai 125 punti. Quindi parliamo di una persona ogni 10. Questo è il massimo livello dopo il quale sostanzialmente una persona con 150, una persona con 130, non hanno più una relazione a priori. Cioè non è detto che chi ha 150 sia anche più creativo. Potrebbe esserlo o potrebbe non esserlo. La media dei premi Nobel è circa 155, ma perché in quel caso, per vincere il Nobel servono un insieme di caratteristiche legate anche alla fortuna, alla conoscenza, allo studio, al metodo e anche forse alla creatività, ma non è che è l'unico fattore. Quindi, diciamo, poi che mi seguite sul canale, penso che il livello medio ha stimato essere appunto intorno ai 120-125 punti, che poi più o meno è quello del Mensa, che è stato fatto un test in passato su persone iscritte e il risultato di livello medio nel Vice 124, quindi magari anche un po' di più, ma più o meno dovreste avere tutti il massimo livello di creatività che si può stabilire a priori tramite il test del qualsetto intellettivo. Quindi è una diretta proprio mirata. Anche chi non ha quel livello può essere lo stesso creativo o anche più di chi ha il qualsetto intellettivo molto più alto, ma in genere le due cose vanno a braccetto e quindi si ha un plus, se si ha anche un buon qualsetto intellettivo, di circa 120. Poi c'è l'uso del linguaggio. Per esempio, ho preso un esempio e ho detto ok, voglio fare un esempio nuovo che non ha mai fatto nessuno per farvi capire quanto, secondo me, il linguaggio influisca anche sullo sviluppo della creatività in, diciamo, combinato o disposto col pensiero logico. Allora, come sapete, anche in campo forense, in campo di marketing, non si usa la retorica per fregare l'altro quando ci si, diciamo, relaziona tra pari, no? Quindi ho pensato, ma perché nessuno ha proposto delle tabelle precise per definire il grado di probabilità soggettivo associato agli avverbi di dubbio o a delle locuzioni legate appunto a probabilità, a cose che potrebbero o non potrebbero succedere. Noi quando diciamo, ma domani pensi di, non lo so, di uscire? Bah, forse se c'è bel tempo. Cioè, il forse, nel mio caso, potrebbe corrispondere a un 40-60% di probabilità. Potrei dare una forchetta precisa, no? Se io fossi un computer, dovrei essere programmato per usare forse quando io attribuisco, magari anche sbagliando, una probabilità precisa al verificarsi di un dato evento. Mi scuso con quelli che stanno scrivendo in chat, devo fare una digressione piuttosto ampia perché vi do gli strumenti per poter poi sviluppare la diretta. Quindi la prima parte la voglio impostare così. Diciamo, una sessione di coaching gratuito per i miei quattro spettatori. Poi abbiamo, ad esempio, altri avverbi di dubbio ancora più al limite, come probabilmente, quasi certamente, è praticamente certo che, usiamo le locuzioni, potrebbe darsi, potrebbe essere che la probabilità soggettiva dovrebbe essere precisa. Cioè, io dovrei poter dire, giocherei un euro per vincerne due, se uso probabilmente, perché per me probabilmente ha una probabilità di verificarsi dal 50 al 90%, faccio un esempio. Ma nessuno lo fa, in campo retorico uno può gestirsi la cosa e quindi usare delle frasi un po' trabocchetto. Ma io credo che quasi sicuramente, se mi date 100 euro, vi dico un numero, voi vincete alla lotteria, no? Potrei dire una cosa del genere, lasciando stare i condizionali. E, diciamo, in realtà io potrei avervi fregato, però l'ho imbastita in maniera tale che nessuno può dire, tu con certezza mi hai detto di giocare con i nuovi. Noi ho detto che secondo me probabilmente c'erano dei motivi, però non sono sognato stanotte. Ok, questo è un esempio di applicazione di pensiero creativo a un campo strettamente logico, no? Ho cercato di razionalizzare, quindi, diciamo, diventare ancora più logico, ancora più convergente, in un campo che però non era stato sondato, non era stato fatto in precedenza, quindi sono riuscito a combinare il pensiero creativo con il puro potenziale logico, che in teoria dovrebbe essere nemico della creatività, dovresti diventare un robot che ragiona soltanto. No, tu mi hai detto probabilmente, quindi tu sapevi che la probabilità sarebbe stata pari o superiore al 70% nella tua tabella che mi hai fornito, no? Mi hanno dato in passato, scusate, nel gruppo del mensa, avevo fatto questa domanda ieri perché volevo preparare la live, e mi hanno dato delle tabelle, ho chiesto, ma esistono tabelle generali? Mi hanno detto, non crediamo che ne esistano, ma ce ne sono alcune in inglese, chiaramente, riferite a degli ambiti specifici, in ambito marketing, in ambito stima del rischio, quindi se uno dice, probabilmente la casa resta in piedi, io non sarei neanche così felice di comprarla, oppure di darti un permesso edilizio per costruire in quella zona, io vorrei, quasi sicuramente, la casa non crollerà a meno di un terremoto di grado pari o superiore all'ottavo, sulla scala a Mercalli, allora magari potrei essere tranquillo. Le responsabilità, allo stesso modo, vado avanti con i consigli, scusate la digressione. Abbiamo detto l'uso del linguaggio, vi ho fatto un esempio, un caso di studio, possiamo prendere qualcosa come la trama di un film, ad esempio, possiamo dire, allora, voglio ragionare in maniera creativa e farmi un film mentale, posso prendere un film e immaginare come si evolverebbe se cambiassi un'ipotesi, questo è un allenamento molto buono. immaginiamo cosa potrebbe succedere se in un film, non lo so, anche di successo, ai predatori dell'arca perduta, Indiana Jones non si fosse trovato in quella situazione specifica, avesse avuto un indizio diverso, se nel codice da Vinci, da Vinci, il protagonista, Langdon avesse avuto un altro tipo di indizio, avesse incontrato prima una persona che incontrerà dopo, e possiamo sviluppare una trama coerente o anche più trame. Un'altra possibilità è quella di pensare in maniera divergente, e vi faccio un esempio pratico adesso. E questo però è anche collegato alla possibilità di immaginare gli oggetti come, diciamo, estranei al contesto che c'è proprio, quindi immaginiamo, non lo so, di essere nello spazio, e immaginiamo di avere una penna in mano, come si comporterebbe la penna se inizia a farla ruotare, come potrebbe essere al tatto una tazzina su Giove, con la gravità di Giove, no? E così possiamo continuare, come potrebbe essere una bottiglia piena di osmio, che è il metallo più pesante sulla Terra, pesa circa 22-23 volte l'acqua, o di più ombro, d'oro, insomma, tungsteno, calpeso più o meno atomico simile all'oro. Vi vado a far vedere l'esempio, uso la lavagna, scusate, mi alzo un attimo, vi do un attimo le spalle, e vi propongo questo quesito, voi dovete provare a rispondere al quesito motivandolo, quindi munitevi di carta e penna, durante la diretta. Io poi andrò alla fine, quindi l'ultima mezz'ora, e andrò a leggere le vostre soluzioni, vi dirò di scriverle in quel momento, e voi mi direte la vostra risposta. Se qualcuno poi vuole entrare in live, può anche mostrarmi tecnicamente come ha proceduto. Allora, inserisco la lavagna sul mio supporto, quando mi vedete nei video utilizzare un supporto, utilizzo la mia sedia, cioè, anche questo è pensare in maniera creativa, no? Non sto utilizzando, appunto, un supporto già pronto, ma sto inventandomi un metodo. Allora, questo giochino veniva utilizzato dai promotori finanziari negli anni Ottanta per fregare le persone, per dirvi, no, guardate, c'è una possibilità di investimento incredibile, ma ci arriviamo soltanto noi perché siamo dei geni, siamo creativi, siamo super intelligenti. Ti faccio vedere un problema, tu non sei in grado di risolvere, io ti faccio vedere che si può pensare fuori dal box. Infatti, questo è un classico thinking outside the box problem, ovvero pensiero divergente, quindi, ragionare in maniera, su un piano diverso da quello atteso da tutti gli altri. Noi possiamo, quindi dacci i tuoi soldi, noi li gestiremo bene e poi chi si è visto, si è visto. Il problema risale al 1915 è di Lloyd e questo problema, scusate, va bene, facciamolo così, e questo problema è stato poi riproposto in varie salse, però è molto antico. Io ce l'ho scritto sopra di paper, ma potrebbe essere posto ad esempio così. Ok. Io gli ho dato questo quadrato, questo, sì, un quadrato, si hanno nove puntini adimensionali, quindi ora ho un pennarello e io sto disegnando dei punti, ma immaginate i puntini come se non avessero dimensione, quindi non posso dare delle soluzioni quando vi dirò di unirli con delle linee continue, diciamo, segmenti rettilinei connessi, continui, non posso dare soluzioni tipo questa, perché il puntino essendo dimensionale e la linea sottilissima non è possibile utilizzare lo spessore per imbrogliare. dovete unire questi quattro, questi nove punti con quattro linee, scusate, con solo quattro linee connesse agli estremi, quindi immaginate di avere una penna e non poterla staccare dal foglio. Fate quattro linee, quattro angoli e quindi, non lo so, ad esempio, uno, due, tre, quattro, cinque, non va bene perché sono cinque linee, dovete connettere tutti i puntini. il rettangolo e il quadrato è questo ma nessuno vi ha detto, io vi do la soluzione e poi vi spiego la domanda successiva, nessuno vi ha detto di non poter andare oltre quindi il rettangolo, il quadrato non è quello dei puntini ma è quest'altro ed è sufficiente per farci dare ad esempio questa risposta. Vabbè, adesso l'ho fatto un po' più piccolo comunque immaginate diciamo di avere abbastanza spazio ad esempio questa avrei potuto fare lo stesso da un'altra parte quindi magari avrei avuto lo spazio sufficiente. Allora, questi promotori finanziari furbissimi si sono inventati questo metodo l'hanno riciclato per dire guardate io penso fuori dalla scatola tu rimani imprigionato nella dimensione dei nove puntini quindi nel quadratino interno però andando oltre questo è l'unico metodo per risolvere il problema non ce n'è un altro non potete risolverlo rimanendo all'interno della scatola e ora proprio vi faccio una domanda più complicata qual è il numero minimo di puntini quindi su una linea sono equidistanti ovviamente quindi diciamo la distanza tra questo e questo è uguale a quella tra questo e questo tra questo e questo eccetera qual è il numero minimo di puntini da unire per avere una soluzione all'interno della scatola quella proprio formata dagli estremi quindi dagli estremi dei punti senza poter andare oltre come ho fatto qui ad esempio sotto o qui qual è la dimensione minima per risolvere il problema usando 2n meno 2 linee in questo caso i puntini n è il numero di puntini su una linea su una riga quindi in questo caso essendo 3 puntini 2n fa 6 meno 2 fa 4 quindi utilizzando 4 linee la formula ve la scrivo in alto salvarevi uno screenshot se volete la formula è 2n meno 2 potremmo anche dire scusate è invertito perché sto lavorando allo specchio potremmo anche dire 2 per n meno 1 con la parentesi ma così è più chiaro 2n meno 2 quindi ad esempio se avessimo 4 puntini dovremmo poter risolvere anzi sicuramente ve lo dico io possiamo risolvere il problema utilizzando soltanto 6 linee però adesso la domanda è diversa non è utilizzare 6 linee e basta ma utilizzate 6 linee rimanendo all'interno di questa scatola è possibile se non è possibile dovete andare oltre dovete andare a lavorare su 5 puntini quindi 5 puntini per lato se non andasse bene anche 5 puntini potete andare su 6 non vi faccio andare all'infinito vi dico con 10 puntini è sicuramente possibile quindi se mettete 10 per 10 una griglia di 100 puntini potete sicuramente risolvere utilizzando 18 linee in questo caso rimanendo all'interno del box non così quindi fregare tutti i promotori finanziari che vi pongono il problema io però vi ho chiesto qual è il numero minimo con 9 è possibile se si provate con 8 e così via una volta che raggiungete un valore non provate quelli successivi perché non ha senso ditemi il numero e poi fatemi vedere anche una delle soluzioni e spiegatemi perché tutte quelle successive poi sono possibili c'è un metodo per farlo dovete utilizzare il pensiero creativo sto invertendo il paradigma non vi sto dicendo ragionate fuori dal box ma vi sto dicendo ragionate dentro il box ma per farlo dovete essere più creativi che ragionando fuori potete vi do un indizio potete utilizzare la soluzione che già ho dato io questa qui la potete riciclare ma la dovete riciclare in maniera intelligente vi faccio ad esempio vedere una soluzione per il caso con 4x4 vi ridisegno i puntini perché ormai ho disegnato già 4 linee e vi faccio vedere scusate me l'ero anche appuntata perché poi non vi devo dare indizi quindi se se vi dessi un'altra soluzione potrei influenzarvi dove era ok era di qua ok perfetto allora vi faccio vedere una soluzione cancelliamo vi faccio vedere questa soluzione per farvi capire quanto sia sostanzialmente tranquillo trovare una soluzione di questo tipo ma quanto sia complicato e quanto richiede di estendere il ragionamento andare a lavorare su livelli successivi per rimanere all'interno del box quindi ad esempio questa ok così così eh qui non l'ho preso bene comunque l'ultima era qui ok ad esempio questa proviamo questa non disegno in maniera molto fluida ok uno due tre quattro cinque sei possiamo proseguire anche volendo quindi diciamo le soluzioni sono infinite in quanto possiamo prolungare all'infinito queste linee possiamo ruotare secondo molte posizioni anzi ho dimostrato in un paper che è possibile partire da un qualsiasi punto per il caso con quattro puntini per lato è possibile iniziare da qualsiasi punto e risolvere il problema con quattro quattro pallini per perline per colonne poi ho esteso il problema anche a n dimensioni a k dimensioni utilizzando diciamo numero diverso di puntini su ogni per ogni dimensione quindi diciamo degli iper parallelepipedi e anche lì ho proposto delle soluzioni dato dei gap ma questo è un lavoro molto più tecnico ma vi aiuta tantissimo a ragionare a modellizzare a immaginare quindi aumenta sia il vostro pubis spaziale probabilmente che sicuramente la vostra creatività io elimino la lavagna adesso ve la tolgo di mezzo voi segnatevi questo dato che vi ho dato e ad esempio potete utilizzare il caso che vi ho dato semplicemente se riuscite a rimanere all'interno della scatola vi ho detto che può essere risolto partendo da tutti i punti se mi dimostrate che è possibile farlo con 4x4 a me va benissimo e avete risolto il problema in quanto qual è la dimensione minima con 3 non è possibile se con 4 fosse possibile avreste risolto se non fosse possibile provate con 5 poi con 6 arrivate a 10 non c'è motivo perché vi ho già detto che con 10 lo potete risolvere buon divertimento ci vediamo alla fine della live tra diciamo un'oretta quando poi andrò a leggere le risposte e a quel punto vedrò chi ha risolto e vi inviterò anche eventualmente a disegnarlo a farmi vedere il disegno qui su Hangouts oppure non c'è problema anche semplicemente parlandone a dopo leviamo la lavagna così mi posso finalmente risedere sperando che non cada e passo a darvi gli altri consigli allora dove era il mio foglio originale abbiamo esprimere un concetto riassumendo ecco anche la capacità di sintesi è importante in quanto per esempio provare a esprimere un concetto usando delle parole chiave e rimanendo all'interno di un certo numero di parole ad esempio provate a fare questo discorso descrivete questa live con meno di 25 parole utilizzando almeno tre parole chiave quindi collegandole tutte questo è anche utile dal punto di vista del marketing dal punto se fate dei lavori ad esempio a contatto con le persone quindi essere sintetici e centrati sul punto anche per indicizzare quindi fare una piccola SEO la SEO è femminile anche nel parlato quindi indicizzare bene i vostri discorsi per posizionarli su un livello di efficacia maggiore perché noi non prestiamo attenzione a tutte le parole che vengono dette ma diciamo catturiamo i concetti e ci focalizziamo su alcune parole che possono avere un impatto maggiore o minore a seconda del tipo di parole utilizzata certo il turpiloquio magari utilizzato in alternanza a parole di uso comune può essere efficace ma non è consigliabile quindi comunque troviamo un compromesso le soluzioni multiple hanno dato problema in questo caso io vi avevo fatto già un esempio in passato e vi avevo detto immaginate di avere una macchina ferma in un vicolo come poterla portare fuori o anzi renderla efficace quindi diciamo monetizzare quindi vi avevo detto ad esempio la mia soluzione migliore che avevo trovato io ma magari ce ne sono altre era quella di mettere una tettoia fare una foto scattarla e dire ah guardate la mia auto nel mio box chi vuole comprarla così potevate vendere la vostra auto e dare il problema a qualcun altro visto che voi non eravate in grado di portarla fuori da quel vicolo utilizzando le soluzioni più complicate dopo aver già detto faccio retromarcia la smonto e porto via i pezzi diciamo tolte queste soluzioni magari una delle migliori di tipo creativo poteva essere quella ma vi faccio un'altra domanda questa domanda me la fece la mia ex ragazza Alessia che commenta spesso sul canale quando diciamo mi contattò lei quindi per vedere se fosse all'altezza di uscire con lei lei mi chiese ma immagina di avere che gli umani avessero sedita per mano come che differenze noteresti rispetto adesso cioè che differenze immagineresti se tu un giorno ti svegliassi al posto che essi uno scarafaggio come Kafka avessi sedita per mano io ho iniziato a dire un sacco di risposte che mi passano per la mente anche scherzose e allora lei fu insomma persuasa e convinta a uscire con me vi faccio la stessa domanda quindi allenatevi ad esempio su questo quesito appunetevi nei tanti altri e sempre rispondendo tante cose diverse ad esempio immaginate quanto potreste essere bravi a suonare il pianoforte non potreste più dire give me five ma datemi give me six quando vi date il cinque vi dareste il sei una risposta importante che dovrebbe venirvi in mente non potremmo più parlare di numeri cioè noi ragioneremmo in un sistema con base 12 non base 10 quindi non avremo più la decina come elemento cioè non faremo più gli speciali con mille diecimila iscritti ma potremmo fare lo speciale 144 iscritti no? al posto con lo speciale 100 iscritti per scherzare oppure in generale avremmo un modo di pensare che a noi adesso è strano in quanto siamo abituati troppo abituati a ragionare in base 10 o in base 2 se siamo programmatori lavoriamo con i multipli di 2 per i bit cioè il computer lavora con base 2 e le potenze successive in quanto è dettato è costretto in quanto lui non ha le dita ma ha degli stadi quindi diciamo on e off e sono due quindi uno poi lavora con i suoi multipli potessimo trovare tantissime altre risposte immaginate siate creativi in questo magari segnatevene questo era il consiglio che davo nel caso della macchina il primo giorno 5 o 10 e poi man mano scalate quindi vi fate la sommatoria per il che vada 1 n di tutti i giorni su cui volete spalmare il vostro esercizio e la media in quel caso si calcola con la formuletta di Gauss quindi differenze estremi su 2 e quindi possiamo provare sempre a trovare 5 risposte domani trovatevene 4 poi 3 poi 2 poi 1 e poi cambiate ponetevi un altro problema immaginate come potreste essere non so con gli occhi di un colore diverso con gli occhi arancioni e immaginate tante altre strade un altro consiglio che vi posso dare è quello di se vi trovate bene io non mi trovo benissimo ma mi viene anche spesso naturale farlo comunque lavorare con le mappe mentali quindi farvi degli schemi a mente come non so se avete presente nella puntata di Big Man Theory nella quale il protagonista Sheldon Cooper deve chiamare cerca insomma un amico da contattare poi chiamerà Barry Kripke e si fa un algoritmo prima di chiamare quindi l'algoritmo dell'amicizia lo volevo fare per uno speciale ma visto che avevo già fatto quello sulle bandiere fan with flags ho preferito usarlo per la live come argomento quindi lui disegna proprio un algoritmo uno schema un percorso logico e inizia a dire allora io ti chiamo se tu mi dici no allora torniamo con un circuito al punto in cui tu mi dici no io ti pongo un'altra domanda a un certo punto finisce in un loop e quindi l'altro co-protagonista Raji deve disegnare un'altra funzione da collegare per permettergli di uscire non ripetere sempre lo stesso concetto a cui l'altro dà sempre la stessa risposta e quindi sarebbe diciamo avrebbe passato l'eternità a ripetere lo stesso percorso logico però lavorare a mappe mentale è utile in quanto vi permette di avere sotto mano uno schema generale di quello che state facendo di quello che del punto finale dove volete arrivare o comunque delle varie opzioni che si pongono di volta in volta in base alla situazione dinamica dovuta all'interazione con l'altro certo lavorare con le equazioni differenziali se fosse un computer non sarebbe uno scherzo ma per fortuna possiamo anche diciamo schematizzare e banalizzare un pochino i processi possiamo immaginare di renderli abbastanza grandi e variabili al loro interno quindi fate uno schermino di massima poi se c'è qualche piccola variabile ignorate se fate dovete fare qualcosa di importante chiaramente non per chiamare i vostri amici non vi consiglio di crearvi l'algoritmo dell'amicizia diciamo che questi sono i miei consigli principali sulla creatività potrei darvene tanti altri potrei darvi tanti altri esercizi da fare ecco ve ne do un altro così giusto come bonus nessuno mi chiede bis però dai facciamo finta di aver sentito questo richiamo allora immaginate di avere una facciata un foglio diviso in due colonne tipo buoni e cattivi però adesso non siamo alle elementari quindi immaginate di avere su una colonna degli stati oppure degli oggetti delle sensazioni quello che vi pare e li scrivete random come vi vengono ad esempio il vostro rumore della giornata i vostri problemi principali quello che è una categoria di parole la mettete in verticale ad esempio 10 parole nell'altra colonna scegliete una categoria completamente diversa ma che può essere astrattamente compatibile con quella quindi una categoria potrebbe essere non lo so un sostantivo come rifiuto come disagio eccetera sulla colonna di sinistra nella colonna di destra potreste avere ad esempio dei sostantivi legati al mondo dell'economia questo vorrebbe essere un esercizio anche ereditizio anche che vi può aprire delle porte a delle idee di business quindi ad esempio degli stati e dall'altra parte possiamo avere guadagno possiamo avere ricavo profitto perdita fallimento e provate a metterli in correlazione parole a caso quindi andate sulla stessa riga e scegliete non lo so disagio oppure tristezza e dall'altra parte vorreste avere profitto come fate a legare la tristezza al profitto vorreste dire i soldi non fanno la felicità potreste dire adesso invento sto completamente inventando anzi vi apro vado su youtube scusate ci metto un attimo e vedo se mi state ponendo delle domande io prendo due parole a caso una parola di una categoria scritta da una persona un'altra parola di un'altra categoria scritta da un'altra persona se riuscissi a trovare la pagina purtroppo io non riesco a trovarmi ci metto un po' e così posso fare l'esercizio con voi possiamo farlo in diretta live stream penso sia questo ok dovrebbe esserci la chat da qualche parte ma non leggo nulla prova chat ah non sarà sicuramente questa quindi modifica cabina degli eventi dal vivo no purtroppo non riesco a vedere la chat allora se qualcuno mi mettesse il link su facebook potrei direttamente andare a leggere i vostri commenti allora va bene l'esercizio comunque mi sembra sia abbastanza chiaro vi ho fatto l'esempio precedente possiamo prendere non lo so rifiuto rifiuto del diverso adesso è anche una parola che va abbastanza di moda io rifiuto l'utero in affitto ad esempio e dall'altra parte potremmo avere guadagno allora come possiamo associare il rifiuto al guadagno potremmo dire le energie alternative vengono rifiute da molte persone adesso c'è un referendum ma potrebbero aprire le porte a grossi guadagni qualora riuscissero effettivamente a sostituire le forme di combustibile fossile il carbone il petrolio inquinanti e che non vanno bene quindi diciamo l'ecosostenibile riciclare il rifiuto per poter avere un guadagno ma un guadagno non solo economico magari un guadagno anche dal punto di vista della salute ambientale dell'ecocompatibilità io ho fatto un esempio per cercare di allargare l'orizzonte per cercare di trovare le varie declinazioni la stessa parola io la settimana scorsa e l'amica scorsa sono stato invitato a una live poi ho partecipato con delle persone davvero intelligenti e colte e mi era per esempio stata posta il problema della differenza tra terrorismo e rivoluzione io avevo detto in realtà per me sono la stessa cosa perché il terrorismo diciamo quando ha successo può anche diventare in alcuni casi rivoluzione ma rivoluzione può significare tantissime altre cose può esserci rivoluzione industriale può esserci il giro di rivoluzione che l'orbi è ad esempio di un pianeta intorno a un astro che funge da stella comunque da fulcro questo per dire abbiamo cambiato il punto di vista proprio una rivoluzione copernicana della parola abbiamo preso rivoluzione intesa come atto bellico che si poi concreta in un cambiamento dello status quo del paradigma dominante e l'abbiamo reso un movimento naturale compatibile con le leggi della natura armonioso è addirittura che dà la vita cioè non esistiamo perché la terra sta orbitando intorno al sole se avesse un'orbita molto più ellittica probabilmente non esisteremmo noi oppure avremmo un ciclo di vita brevissimo per poi ibernarci e rinascere dopo 200 anni ok vi ho fatto degli esempi credo che gli spunti ci siano vi invito ancora a lavorare come diceva la mia purtroppo scomparsa professoressa italiana vi invito a prendere in considerazione quell'esempio e ad allenarvi perché vi aiuta poi anche a modellizzare quindi quando poi diventerete abili io ci ho passato le nottate a ragionare in più dimensioni alla fine mi sono ritrovato a poter vedere degli ipersolidi cioè riuscivo a vedere un tesseratto che si trasformava a seconda della di come se mi avvicinavo mi spostavo un tesseratto per chi non lo sapesse è un cubo in quattro dimensioni e alla fine ho pubblicato su un giorno al peer review si chiama notice and number theory and discrete mathematics un paper proprio sulle mie soluzioni nel caso n dimensionale con n dimensioni ogni dimensione di lunghezza arbitraria con un numero di punti mi arbitrario ce n'è un altro che verrà pubblicato a breve tra qualche mese e quindi diciamo ne ho fatto poi un campo di ricerca scientifico ma il caso in due dimensioni è proprio emblematico che vi aiuta a ragionare quindi immaginate di fare le linee a mente e di disporle e forzarle e disporle in maniera tale da poter rimanere all'interno del quadrato per chi volesse vi poi metto in descrizione un link di un'animazione che avevo fatto con delle soluzioni piano per piano quindi risolvendo un piano alla volta non ragionando in tre dimensioni nel caso in tre dimensioni quindi 4x4x4 5x5x5 e ho trovato le soluzioni ottimali quelle con il minor numero di puntini almeno che esistono al momento trovate ragionando appunto su questi piani uno alla volta sfruttando poi delle linee di collegamento vedere è un macello ma io quella cosa l'ho fatta ragionando scomponendo il problema facendo una mappa mentale risolvendo la mente mentre facevo altre cose senza disegnare nulla senza scrivere cioè riuscivo a modellizzare 5x5x5 quindi 125 puntini a mente e a collegarli dopo essermi allenato quindi aumentata sia la creatività che il mio potere di visualizzazione molto probabilmente è migliorato anche il mio quotiente intellettivo comunque l'ho tenuto allenato la memoria anche viene investita abbastanza vi svelo un'altra cosa questa è simpatica una curiosità avete presente la vecchia canzoncina del limoncello quella che dice lemon tree all'interno della canzone nessuno capisce sostanzialmente il senso anzi sembra una canzone allegra un albero di limoni uno sente albero di limoni e gli mette allegria in realtà quella canzone è proprio una canzone che è focalizzata sulla mancanza di creatività inizia con un ragazzo che probabilmente è stato lasciato dalla sua ragazza che ama perché lei vede il blue blue sky il cielo blu mentre lui non riesce a vedere altro che un misero striminzito concreto ed effimero albero di limoni l'albero di limoni è ancorato al terra e chiaramente alle radici e quindi è una metafora per dire non riesco ad andare oltre la mia condizione materiale non riesco a sognare non riesco ad immaginare non sono creativo soprattutto questa è una canzone nella quale alla fine l'ultima strafa dice c'è l'ultima strafa e dico no io mi trovo la solitudine non fa per me l'isolamento non fa per me isolation is not good for me e alla fine dice tu immagini questo cielo blu ma io non riesco a vedere altro che un giallo albero di limoni cioè finisce così la canzone cioè è una sconfitta io non riesco ad essere creativo non riesco a pensare neanche in maniera ottimistica cioè il pessimismo ammazza la creatività quindi siete ottimisti io non lo sono più di tanto ma mi auguro di essere almeno creativo sicuramente la creatività le emozioni la gioia e le aspettative moltiplicano la creatività e quindi creatività più qualsiasi intellettivo uguale steve jobs ma più intelligente perché il suo qualsiasi intellettivo è stato stimato non arrivare neanche a 160 che è tantissimo ma si può anche andare oltre Wozniacki era il suo socio era quello che era il qualsiasi intellettivo altissimo che ha scritto il sistema operativo dell'apple 2 e tutto il resto quindi se avessimo entrambe noi saremmo sicuramente nelle condizioni di essere geniali poi emergere o non emergere anche questione di fortuna di diciamo environment di contesto ma avere la possibilità di emergere tramite qualsiasi intellettivo alto e creatività sicuramente sì ok questa è una delle varie possibilità qui mi ha rappuntato anche qualche altra cosa ma direi direi che con lemon tree possiamo archiviare questo capitolo chi si fosse perso un pezzo della live è invitato ad andarsela a rivedere dall'inizio chi si stesse chiedendo cosa sia quella lavagna dietro è un problema che ho posto quindi se non l'avete già vi siete collegati da poco poi ve lo rispiego comunque vi potete rivedere la live dall'inizio si tratta di collegare con 2n-2 un numero di linee preciso un certo numero di puntini disposti in maniera ordinata secondo una griglia con delle linee continue disegnate senza staccare la pena dal foglio vi avevo chiesto qual è il numero minimo di puntini su ogni riga o su ogni colonna tanto sono griglie quadrate per risolvere il tutto con 2n-2 linee rimanendo all'interno della scatola rimanendo all'interno dei confini indicati dai puntini estremi agli angoli insomma dai 4 angoli è un problema che rovescia il thinking outside the box rendendolo creativo pur ammazzando nella componente di ragionare oltre i confini la difficoltà era immaginare di poter andare oltre in questo caso già lo sapete quindi non avrebbe più senso chiedervi di trovare soluzioni andando oltre vi chiedo rimanete dentro e dimostrate oltretutto anche come fate poi ad estendere il numero di puntini rimanendo sempre dentro c'è proprio una regola quindi l'ho trovata io la potete trovare anche voi o comunque trovate un'altra equivalente ma è possibile farlo rimanendo dentro ora c'è un capitolo divertente poi vado a leggere le vostre domande sicuramente qualcuno mi harà dato il link su facebook quindi riuscirò ad andare poi nella chat l'esperimento l'esperimento di wazon questo è l'argomento di un prossimo video ma perché vi sto citando quello che farò poi in un altro video sarà un video incredibile ci sarà un paradosso proprio vi darò un problema che il 98% 95% almeno delle persone non è riuscito a risolvere è banalissimo nella formulazione ma perché la gente sbaglia la gente sbaglia anche in virtù del donning kruger effect una parola sembra strana invece non è il nome di due tizi che come al solito l'hanno evidenziato e questo è un bias cognitivo cioè un bug del nostro cervello è un qualcosa che ci fa sbagliare in maniera sistematica ci fa ragionare come il millennium bug perché se lo ricorda nel 2000 niente è qualcosa proprio che ci terrorizza le persone sono diciamo naturalmente portate a sopravvalutarsi secondo il donning kruger effect le persone credono di essere più intelligenti di quello che sono non riescono a vedere i propri limiti e questo è un limite a sua volta è come quando un fighter si considera troppo bravo e sottovaluta l'avversario non vuole imparare si mette a fare cretinate mi viene in mente mcconnor e poi perde stupidamente in quanto a delle lacune che però lui non accetta e quindi non va col mare perché si considera già arrivato noi siamo portati naturalmente a fare questo le persone stupide sono convinte di essere intelligenti le persone intelligenti sono convinte di essere ancora più intelligenti ma è compreso e questo ci rende meno intelligenti il sapiente era colui che sapeva di non sapere diceva Socrate mentre in questo caso la persona intelligente è quella che si pone dubbi si va a mettere in discussione e soprattutto non cerca conferme ma critica se stesso cerca delle controprove io quando ho fatto quel paper me ne sono proprio reso conto io cercavo di ragionare in maniera diversa per trovare gli errori solo che è difficile vedere tanti punti di vista rimanendo tu stesso il singolo che va a criticare il lavoro che hai fatto per questo è molto efficace ad esempio fare una fase di beta test e chiedere a qualcun altro senti ma tu come dimostreresti che ho sbagliato tu come potresti trovare una soluzione diciamo diversa io la domanda che vi ho fatto la risposta già la so perché ho scritto il paper sopra ma altrimenti potrei dire cioè se uno mi dice lo so risolvere quello con con tre punti per linee per lato all'interno della scatola io il dubbio me lo dovrei porre dovrei dire ma come fa quello a rispondere questo magari sta sbagliando ma magari io non ho considerato delle soluzioni che in realtà invece sono sono possibili non vi ho fatto a caso questo esempio questo giochino l'ho fatto perché è proprio fortemente correlato con il discorso della creatività ma anche dei bias cognitivi cioè il Dune Include che il Reflect è una cosa studiatissima una cosa che ci accomuna tutti e anche il discorso dell'esperimento di Wason che va ad estendere il Dunning-Kruger Effect cioè non è che soltanto noi ci sopravvalutiamo ma noi cerchiamo addirittura anche le conferme quindi non è solo vabbè mi immagino di essere intelligente ma poi però quando vado a vedere effettivamente se trovo un problema cioè lo posso trovare perché io valuto in maniera critica tutte le varie soluzioni quando trovo che una cosa non va bene dico ok ho sbagliato amen no in quel caso io cerco solo le conferme quindi se formulo una teoria anche in campo fisico è molto comune la teoria delle stringhe che è una cavolata ma che va per è andata avanti per molti anni perché si cercavano solo conferme di persone che lavorano sulla teoria delle stringhe non è che si cercavano dei metodi per confutare o dei punti deboli no invece per diventare più intelligente e creativi immaginate di cercare i punti deboli ma cambiando il vostro paradigma quando andate poi a criticare per vedere se il vostro la vostra costruzione logica è solida è buona andate a immaginare come farla a pezzi cioè io per testare una casa un oggetto ho costruito vado a fare uno stress test lo metto alla prova in condizioni ancora più estreme rispetto a quelle che mi aspetto vado a vivere perché devo essere sicuro così è una teoria non posso dire ok ma la casa sta in piedi ora che non c'è vento ora che è tutto bene nel modellino piazzato in piano allora la casa rimarrà in piedi no io devo iniziare a simulare un terremoto devo premere contro i muri devo sovraccaricare il pavimento per vedere se la casa è solida stessa cosa per la vostra vita quotidiana qualsiasi scelta andate a fare o teoria o proposta ricevete ci sono poi altre cose simpatiche come l'effetto gregge questo riguarda youtube in quanto voi non so se ne siete a conoscenza ma a parte Berlusconi che lo ripeteva molti anni fa cioè che lui si rivolgeva a un pubblico immaginando che fosse composto da bambini delle medie seconda terza media nemmeno troppo svegli questa cosa in realtà era ancora più antica è stata ripresa da una politica della city di New York City che veniva adottata per le vendite da una grossa multinazionale questa multinazionale immaginava nei propri brand nei propri slogan di rivolgersi a dei bambini 12 anni neanche troppo intelligenti questo perché fa molto presa sul pubblico se vogliamo raggiungere una vasta un vasto pubblico un vasto diciamo bacino di potenziali acquirenti audience quello che vogliamo elettori noi dobbiamo immaginare di rivolgersi alla loro pancia loro non vogliono essere spronati a dare il massimo come faccio in questo canale se io volessi tante views dovrei parlare di calcio dovrei aprire Google Trend e parlare di calcio in realtà il canale sta crescendo bene ma sta crescendo in maniera selezionata tra le persone che effettivamente sono interessate a quello che faccio non mi vado a rivolgere al pubblico più vasto possibile ma fossi un politico dovrei effettivamente fare questo sarei chiamato a banalizzare il mio messaggio a semplificarla a usare le parole chiave a essere sintetico e a usare comunque degli slogan che tutti sono in grado di percepire per questo è importante avere un brand avere uno slogan ripetere quello infatti se ci fate caso quasi tutti i più grandi youtuber hanno delle caratteristiche stereotipate ripetono sempre la stessa cosa all'inizio alla fine del video io per esempio ho la mia sigla ma possiamo è un caso molto limitato però loro ad esempio fanno gesticola fanno i gesti spaventa spesso qualcun altro ripete lezzo queste cose come Zeb89 ognuno ha un suo marchio di fabbrica che nella vita reale non lo contraddistingue lui era una persona normale ma quando va su youtube inizia a recitare quindi ha un personaggio come quelli di Zelic come quelli come i comici o come McBongiorno che esordiva dicendo allegria la 1 la 2 la 3 ecco quelle cose sono quelle che ti fanno riconoscere che ti fanno posizionare e ti fanno poi avere visibilità a seconda dello scopo a seconda del pubblico anche la creatività va modulata non è che è sempre necessario essere creativi a tutti i costi ma essere originali e riconoscibili è molto spesso un vantaggio creare sul mercato un prodotto scusate non brevettato un prodotto che nessuno aveva ancora ideato c'è stato un caso che è veramente ridicolo ma purtroppo anzi per fortuna la persona ci si è arricchita c'è stato un signore nel nord che ha brevettato Razzle Razzle già era chiaramente non è stato inventato in Italia già era un marchio famosissimo era un app che andava tantissimo sugli smartphone ma lui si è accorto che in Italia nessuno l'aveva brevettato ha pagato un po' di soldi pochi ha brevettato Razzle e persino la Clementoni quando andata a fare il gioco fisico il gioco da tavolo ha dovuto pagare diritti a Razzle l'americana o di dov'è e al signore del nord che ha brevettato in Italia Razzle quindi non è che è soltanto la creatività ma anche la fortuna la perspicacia la furbizia a volte possono rendere tantissimo possono avere un grandissimo vantaggio nell'altro canale il mio secondo canale è linkato poi nella home io parlo di queste cose parlo di come fare i soldi poi ho chiuso perché vabbè il canale ormai non lo seguo più ma in pratica era un canale per disincentivare le persone a registrarsi a quelle piattaforme di trading online di market appunto citando ad esempio il caso dei promotori finanziari molti l'hanno frainteso mi sono arrivati un sacco di chiamate perché per fare video ho dovuto lasciare le mie credenziali sono stato subvissato di chiamate spam di mail da queste piattaforme però il messaggio era anche lì siate creativi ragionate in maniera critica in maniera logica quindi per capire come effettuare un investimento qualora aveste come hobby ma chiaramente è un hobby che non è redditizio anzi il 99% dei casi è un hobby che vi fa rovinare vi fa perdere tutto però anche lì la creatività di esempio il cot la capacità di fare un bank mirroring quindi io avevo detto se le banche che sono i più grandi investitori le banche e chi si vuole coprire multinazionali che usano gli investimenti per coprirsi hanno il fiorfiore degli esperti e possono muovere i grandi capitali quindi orientare il mercato allora perché non copiarle ma non era copiarle in ritardo perché i dati escono con tre giorni in ritardo quindi fare le stesse cose perché facendo gli stessi movimenti in ritardo voi sarete perdenti ma è come non lo so copiare quando una macchina fa la curva ma stando 100 metri indietro voi andrete nel prato molto probabilmente la curva non l'ha impostata bene ma ripetendo facendo un archivio di dati e ripetendo le loro scelte in tempo reale quando si verificano le condizioni e i parametri che avete fissato potreste avere un'idea diciamo innovativa potreste riuscire a guadagnare addirittura in quel caso ma avendo appunto un archivio di dati uno storico che poi voi sapete interpretare in maniera intelligente quello intendevo perché poi mi hanno risposto se è così facile perché non lo fai tu che non hai una lira no io non lo faccio perché prima cosa non sono capace secondo non ho un archivio storico non ho tempo non ho voglia e terzo preferisco dirlo su youtube anziché anziché arricchirmi no per scherzare ma comunque l'idea è quella quindi non era un modo per arricchirsi era un'idea ma è sempre un pensiero creativo io per fare quel video ho dovuto ragionare in maniera creativa potreste applicare delle idee effettivamente e avere idee vincenti cioè pensare creativo permette anche di aprire opportunità di business io sto sviluppando i test dinamici e li ho sviluppati ecco grazie al mio pensiero creativo ho pensato lì ancora non c'è nulla mi piacerebbe avere un test dinamico esiste non esiste come lo posso creare per crearlo ho dovuto inventare un metodo ho dovuto creare una struttura creare un sistema per generare le figure poi avevo problemi di implementazione allora mi sono rivolto a un'altra persona molto abbia che è diventata il mio socio e quindi adesso è a quattro mani il progetto lo sviluppiamo lo portiamo avanti in due è un progetto di entrambi però io la parte creativa l'ho fatta prima l'ho fatta in questa maniera creandomi cioè individuando prima il problema e trovando tantissime soluzioni ho detto vi posso fare duemila cose ho fatto i test dinamici numerici e li ho già realizzati con Gaetano Morelli alla fine sono arrivati a quelli spaziali ma dopo tante prove tante idee sviluppandole buttandole giù di nuovo il consiglio l'idea è sempre quella di buttare giù tante idee quindi munitevi di un blocchetto di un block notice e quando potete annotatevi tutto magari sono cretinate ma se avete l'idea buona perché farla passare adesso non ricordo il nome ma ci fu un grande genio della fisica citato anche in Numbers nella serie fortunata serie che andava qualche tempo fa con Charlie Epps come protagonista e in pratica questo personaggio ebbe sognò una teoria sognò un paradigma molto molto importante mi sembra fu un premio Nobel lui però si svegliò e si dimenticò quello che aveva sognato non aveva lì carta e penna e quindi cade nella disperazione aveva sognato qualcosa di eccezionale ma non era riuscito poi a ricordarselo fortunatamente la notte successiva si era munito poi durante il giorno di da qui non se l'era messo sul comodino la notte successiva riuscì sforzandosi a risognare quello che aveva fatto la notte prima se lo segnò e poi ebbe molto successo sviluppando quella teoria però ecco anche i sogni anche i sogni vengono pilotati vengono pilotati da quello che facciamo durante il giorno io quando ero molto attivo mi sognavo le soluzioni mi sognavo i paper insomma non mi trovo tranquilli non è quello ma proprio riuscivo ad espandere la mia creatività anche fare spesso molto spesso faccio sogni lucidi quindi sono consapevole di stare sognando e posso svegliarvi quando il sogno non mi piace o ancora meglio ma non mi riesce sempre riuscire a pilotare il sogno quindi quando immagino qualcuno che mi insegue armato posso sempre dire dai adesso che mi fai tanto cioè il sogno lo sto governando io e quindi avete risolto il problema al massimo vi svegliate non tutti sudati ma vi svegliate tranquilli queste sono possibilità la droga ad esempio gli acidi che si faceva Steve Jobs per lui erano addirittura disse trovate le soluzioni drogato sotto LSD in realtà quello era molto probabilmente un metodo di ragionamento che per lui era è stato fortunato era comunque però un metodo che lui aveva incorporato ma del quale non riusciva bene a individuare i vari pastaggi quindi diciamo slegando la logica stretta rigorosa lui ha avuto delle idee grossolane geniali ma comunque molto vaghe che poi persone con un totale di consente intellettivo superiore al suo come Wozniaki più abili e più diciamo convergenti hanno poi tradotto quindi gli ha dato diciamo la traccia generica e loro sono riusciti poi a creare il modellino vorrei una macchina rossa con quattro ruote che va veloce ok io adesso faccio i progetti e poi costruiamo una Ferrari chiaramente il grosso del lavoro era il fatto che ha costruito la Ferrari ma in tanti casi vorrebbe non essere così ah il messaggio è non drogate non è drogate diventare Steve Jobs se no vi drogate finite in qualche centro ok e non è quello che voglio in questo canale sono fortemente critico nei confronti delle droghe e faccio opera di dissuasione sempre questo è un esempio per farvi capire la Apple la meretta in realtà un richiamo oltre che al suicidio di Alan Turing a Biancaneve che appunto ha la mela avvelenata che si rifà anche a quello ma in realtà il fatto che loro amassero Jobs e gli altri mangiare meno sugli alberi mezzi drogati insomma questo era il logo della Apple no ha perso il filo nel segno comunque scusate no la creatività in realtà va stimolata e è importante ma c'è stato un caso un precedente citato spesso dal presidente del consiglio Renzi nella quale la creatività è stata abbattuta dalla furbizia e dalla concretezza mi sta riferendo al solito a Meucci allora a Meucci in quel caso ha avuto un'idea che da sola valeva tantissimo perché l'idea di mamma vorrei chiamare una persona mio zio che sta in Europa dagli Stati Uniti o viceversa voglio chiamare mio zio che sta negli Stati Uniti chiaramente l'idea in sé la può anche avere un bambino anzi molto spesso l'hanno i bambini cioè il bambino immagina un missile che va nelle stelle allora ok non so un piccolo principe moderno può avere l'idea poi certo costruire uno shuttle è più complicato la missione ExoMars che parte adesso è partita chiaramente avrà comunque dietro delle menti superiori però l'idea può essere anche proprio di un bambino anzi il bambino ragiona con occhi che gli adulti non hanno mi rifaccio alla teoria del fanciullino di Pascoli però però Meucci disse ok io vorrei poter chiamare qualcuno non mi costruisco anche il telefono quindi ha avuto l'idea che vale tanto e ha avuto anche la capacità di implementarli ho avuto l'idea dei test dinamici in parte diciamo l'ho spiegato il metodo e poi però c'è qualcuno che deve costruirli non sono in grado quindi entrambi hanno un grosso valore poi è arrivato Bell ha detto io me lo abbrevetto e quindi risolve il problema e ha vinto Bell quindi ecco la creatività deve essere comunque sopportata da altre capacità ma a livello di intelligenza pura se vogliamo escludere la furbizia come che può avere anche connotati negativi può avere anche diciamo una persona può non essere furba perché non ha il senso di andare contro gli altri un senso di amore universale di condivisione un Bentham moderno che dice noi non voglio fare la guerra sociale per fare male a tre persone per avere io un profitto maggiore preferisco togliermi io qualcosa e far star bene più persone quindi anche questo è condivisibile ma a livello di intelligenza sappiamo cosiddetto intellettivo creatività e pensiero divergente che si colloca a metà tra entrambe secondo me il pensiero intelligente rielaborato in maniera critica nel senso di trovare delle soluzioni efficaci dando un grado di dettaglio elevato fa parte del cui il pensiero divergente dove bisogna trovare tante soluzioni può fare tantissime però in quella prova che vi ho dato lì farne tante e prima o poi incapperete nella soluzione giusta con il metodo di Monte Carlo per chi non lo sapesse anche lì è un metodo in test che si fa delle teorie delle cose che non si riesce concretamente a stabilire se hanno delle falle e si dice ok il computer prova quello che ti pare lancia una pallina fallo un milione di volte un miliardo di volte e se trovi un problema di fermi lo segnali altrimenti diciamo che va bene quindi provando a caso cambiando parametri a caso e facendo tantissime prove è un metodo di Monte Carlo stocastico non è una parolaccia cioè aleatorio stocastico sono processi non era ok allora torno su Facebook spero che qualcuno mi abbia dato il link così passo a commentare le vostre domande siamo quasi un'ora e quindi direi che ci siamo nessuno mi ha passato il link non ci credo non ci credo allora qualcuno diciamo che volesse andare su Facebook o andare su Facebook vedere il link di Hangouts e postarmi qui sulla chat di Hangouts il link per andare a vedere me stesso che sto parlando live non lo posso fare in quanto io sono già loggato per registrare quindi non posso tecnicamente uscire e poi vedere dov'è la chat opzioni stream vorrei trovare la chat perché qui ne ho una ma non la utilizza nessuno ho scritto prova chat ma non non funziona allora ok forse è qui forse ho trovato c'è appunto scritto che la diretta sta a un grado di di qualità accettabile avviso sulla trasmissione però non vedo non vedo chat purtroppo quindi ma ci tenevo perché mi avrebbe fatto piacere anzi mi fa piacere poter poi commentare quella domanda che vi ho fatto e vedere chi ha chi l'ha risolta come l'ha risolta e darvi la soluzione perché non mi va di tenervi qui con il dubbio allora dashboard proviamo da qui vediamo se riesco ad entrare io non riesco a vedere cioè non c'è un video in diretta c'è me stesso in diretta ma poi il video verrà caricato successivamente quindi no allora ecco mi è arrivato un messaggio vediamo un po' fortunatamente adesso vado a vedere perfetto grazie ok allora ho la chat finalmente allora vediamo chi c'è sono tantissimi momenti vedo dottor trafalgar lo vedo fabbio castagna alessia vi saluto tantissimo riassumendo al massimo pensiero divergente pensare fuori agli schermi creatività trovare soluzioni ok intanto vi saluto ciao a tutti allora intanto vi pongo di nuovo la domanda avete delle griglie di n puntini per righe n puntini per colonne adimensionali dovete congiungerli tutti usando 2n-2 linee connesse quindi segmenti dritti senza staccare la penna dal foglio e dovete rimanere all'interno dei quattro diciamo puntini agli estremi dei quattro angoli qual è il numero minimo di puntini per poter risolvere questo problema vi ho detto con tre puntini non è possibile con dieci puntini è possibile è possibile vi ho fatto vedere con quattro puntini una possibile soluzione dove però si esce dal foglio e provate voi a dirmi la soluzione e perché e poi perché tutte le altre le successive oltre al numero che mi darete potranno essere risolte rimanendo all'interno del foglio quindi trovare una regola generale ho visto un gatto scacciare un coccodrillo dice Ugo gatto beh tu ti chiami gatto quindi scusate bevo un goccio d'acqua perché ho la gola un pochino secca dopo aver parlato per un'ora a tono sostenuto ecco va molto meglio allora l'effetto gregge spero non si verifichi sul mio canale e non c'è pericolo era quello che dicevo prima cioè quando qualcuno ha successo tutti si accudano quindi a quel punto quando vedete uno youtuber con tanti iscritti tutti si vanno a iscrivere perché è una cosa che che fa figo non lo so va di moda che cozzalone con tutto che secondo me è un bravo comico ma tutti vanno a vedere il film di che cozzalone perché lo vanno a vedere tutti cioè a quel punto perché io non posso devo farlo perché tutti lo fanno io sto in camera con decine di moccosi che urlano e corrono mi è impossibile concentrarmi va bene dai comunque diciamo poi lo potrai rifare se magari rivedrai la diretta successivamente potrai poi bloccare quella parte e riprovare chiudi lì in una stanza chiudi tuo marito in un baule vai sul segugio no è una pubblicità non dovrei fare pubblicità no non mi paga segugio io ho fame sono provata mentalmente ma ho capito il problema che ha posto Marco allora Alessia tu hai dei puntini disposti come nel classico dots puzzle quello dei nove puntini però ne puoi avere di più quindi puoi avere 4x4 5x5 e devi collegarli tutti usando il minor numero di linee ma rimanendo dentro la scatola ve lo faccio rivedere allora riprendo riprendo la nostra lavagna si parlerà di infanticide di massa allora ditemi voi se vi devo rispiegare il problema oppure non c'è bisogno non vi interessa allora la live è sulla creatività possiamo fare due cose o vi rispiego il problema e perdiamo 10 minuti o qualcuno può entrare su Hangouts o condiviso il link su Facebook e basta sedarli e potete entrare quindi possiamo chiacchierare in diretta potete farmi le domande possiamo fare gli esercizi quello che volete quindi c'è una sessione di coaching gratuito normalmente la gente per fare cognitive enhancement potenziamento cognitivo si fa pagare dovrei farmi pagare lo sto facendo gratis sul canale quindi è una buona occasione Alessia ha capito allora Alessia spiegalo tu a tutti metti una scrivi bene un post con le regole no ok e quindi se qualcuno vuole entrare su Hangouts siete 10 spettatori non tantissima ma di qualità potete entrare e possiamo chiacchierare quindi attivate un microfono anzi se avete gli auricolari del cellulare vanno benissimo quindi usate quelli collegati a modo che non c'è ritorno e chiacchieremo a voce il link lo trovate sulla mia pagina Facebook quindi Marco Ripa su Facebook è pubblico per il resto direi che possiamo anche utilizzare la chat quindi per qualsiasi cosa Miriana Lallo ciao Miriana ha fatto anche la copertina del mio libro quindi vi segnalo che ha veramente un grosso potenziale creativo artistico fatti prestare qualcosa da Cosby da Bill Cosby no da Bill Cosby meglio non incontrarlo visto visto quello che si è scoperto che ha fatto vi spiega Marco di Prego mi sono perso la spiegazione all'inizio allora adesso vado a prendere la mia lavagna e vi spiego il tutto ve lo rispiego anzi vi utilizzo la mia serie come leggio perché il leggio che vedete nei video è nient'altro che questa serie quindi pensiero creativo a Google scusate tolgo allora la chat in modo che posso vedere quello che sto facendo per posizionare bene ok avete cancello vi rifaccio tutto da capo allora prendo un cancellino ovvero un fogliaccio di Scottex è quello che utilizzo di solito e vi vado a riepilogare il tutto questo è un problema che veniva utilizzato dai promotori finanziari negli anni 80 per fregare le persone e convincerli a fare investimenti rischiosi quindi a dare a loro i soldi poi da gestire tuttavia questo problema risale al 1914 è un problema di Samuel Lloyd e venne pubblicato su appunto una rivista diciamo che conteneva anche altri quesiti ma poi ebbe successo successivamente allora abbiamo nel caso originale tre puntini scusate li faccio più grandi ma immaginate li ha dimensionali quindi piccolissimi e delle linee sottilissime abbiamo tre puntini per ogni riga per tre righe quindi nove puntini disposti secondo una briglia quadrata la distanza tra i puntini è sempre costante quindi è sempre un'unità ok il problema originale chiedeva collegate questi quattro punti questi nove puntini con quattro linee e veniva dato un rettangolo un quadrato comunque che conteneva tutto ma più largo della diciamo del quadrato individuato dai puntini agli angoli quindi uno due tre e quattro la soluzione nessuno la trovava in quanto dicevano ok ma posso farlo con cinque linee oppure posso tipo imbrogliare fare cose di questo tipo ma non va bene perché i puntini sono adimensionali e allora loro potevano bullarsi e dire ah guardate perché noi siamo più intelligenti di voi troviamo soluzioni innovative e per esempio lo possiamo risolvere con quattro linee una due tre e quattro posso proseguire all'infinito ovviamente qui qui ok questa è una delle soluzioni io però vi ho chiesto una cosa diversa vi ho chiesto rimanendo all'interno della scatola infatti questo problema si chiama thinking outside the box perché si ragiona fuori dalla scatola dal perimetro la scatola sarebbe questa ok quella fatta da individuata dai quattro estremi dai quattro puntini all'angolo è possibile risolvere questo problema con quattro linee rimanendo nella scatola ve lo dico io non è possibile ma possiamo aumentare il numero di puntini su ogni riga e su ogni colonna e in maniera costante quindi questo n in questo caso n uguale 3 perché 1 2 e 3 chiaramente 3 per 3 4 per 4 non possiamo fare 5 per 2 no? in quel caso la soluzione sarebbe una semplice spirale in questo caso n uguale 3 non va bene quindi dobbiamo avere valori maggiori di 3 la soluzione il numero di linee minimo ve lo dico io quant'è è dato dalla formula 2n meno 2 ok 2n significa 2 volte il numero di puntini su ogni riga o su ogni colonna facciamo su ogni riga tanto la stessa cosa quindi nel caso 4 per 4 dovremmo utilizzare 6 linee nel caso 5 per 5 8 linee 10 linee e così via e vi ho dato un altro indizio vi ho detto sicuramente la soluzione che sto cercando è inferiore a 10 cioè nel caso 10 per 10 sicuramente può essere possiamo utilizzare 18 linee che è il minimo numero possibile dimostrato l'ho dimostrato 18 linee rimanendo all'interno dei puntini estremi di quelli che si trovano ai 4 angoli della scatola ma qual è il numero minimo di puntini per risolvere questo problema la domanda era questa quindi se fosse 6 non avrebbe senso poi cercare il caso con 7 con 8 perché vorreste dirmi n uguale 6 e la soluzione è questa poi però vi chiederei e mi potete far vedere il metodo per risolvere anche tutti quelli successivi rimanendo nella scatola con 2n-2 2n-2 linee questo è un ragionamento molto importante che vi allena molto nel pensiero creativo è proprio un esercizio che secondo me è efficacissimo che ho poi utilizzato io ho scritto dei paper ma mi ha dato degli enormi benefici nessuno ve lo consiglierà perché è una cosa originale nel frattempo mentre aspettiamo poi a leggere i vostri commenti volevo farvi vedere un altro esempio prendo un libro che ho scritto tempo fa c'era anche l'ebook ma comunque non vi dico neanche il titolo perché avevo scritto delle poesie utilizzando la matematica quindi avevo accoppiato che secondo me è il massimo l'ottimale non mi voglio sporcare avevo accoppiato la matematica e la prosa e la poesia allora vi faccio vedere queste poesie sono formate sono qui sulla sinistra sono formate da un numero di sillabe per ogni verso per ogni per ogni linea che è diciamo contenuto nel titolo della della poesia stessa ma non solo c'è anche un aggrostico quindi in verticale tra le prime lettere di ogni verso identificano il soggetto il tema e il contenuto della poesia è proprio in linea e diciamo estende il tema quindi avevo fatto quattro cose insieme avevo combinato quattro livelli l'ho fatto in poco tempo comunque l'ho scritta no? vi leggo la prima e poi vi spiego bene come funziona canone classico fu in belli orpelli nascosta quel apostrofo accattivante sequenza contenente le rispondenze naturali sotto conchiglie petali di rose corolle di fiori i rami le foglie ultima riga infine anche l'uomo si piegò all'aurea proporzione fidia scolpì e ptino eresse il partenone allora in questa poesia intitolata canone classico io diciamo composto i versi rispettivamente di una una due tre cinque otto tredici ventuno trentaquattro sillabe che cosa significa? che cos'è questa sequenza? questo per chi non lo sapesse è la sequenza di acrostico fibonacci celebre anche per il codice da Vinci insomma anche lì c'è la sequenza di fibonacci è formata sommando a ogni numero i precedenti cioè il precedente quindi uno inizio uno uno più niente uno uno più la precedente che è uno fa due due più uno tre tre il precedente due cinque cinque più tre otto e così via io ho utilizzato lo stesso metro quindi sono dovuto rimanere in un range molto piccolo e scrivere una poesia sui numeri fibonacci questa è la sequenza di fibonacci quella che vi sto dicendo perché quello che dico in mezzo conchiglie pedali le coralli dei fiori in realtà sono dovute al rapporto aureo alla spirale aurea che è nient'altro che si ottiene utilizzando fibonacci numeri fibonacci il rapporto aurea quello che si utilizza anche per la costruzione del partenone utilizzato Fidia è il rapporto 1,61 la proporzione è la bellezza quindi due cose in quel rapporto sono considerate belle noi le percepiamo come belle e allora appunto per questo dico che Fidia scolpì l'ha costruito e Fidia l'ha inciso nel metopetri glifi eccetera lo stile il partenone la trabeazione la tauromachia ok quindi Fidia è connesso al partenone come Ictino e il partenone è proprio quel rapporto mantiene quel rapporto che si ritrova anche in rispondenze naturali nelle conchiglie le conchiglie hanno la spirale aurea i petali di rose sono il rapporto aureo le corolle dei fiori i petali dei fiori stessa cosa i rami si biforcano secondo il rapporto aureo anche essi e le foglie che insomma sono legate quindi diciamo ho detto una legge naturale di bellezza che comunque è insida nel nostro mondo quotidiano e l'ho espressa come acrostico utilizzando diversi che iniziano proprio con Fibonacci vi leggo la seconda poi basta ne ho fatta anche un'altra questo è intitolato gli atomi sfuggenti gli atomi sfuggenti della matematica per chi non lo sapesse no lo sapete tutti quindi ve lo dico a fare no sono i numeri primi i numeri primi sono considerati atomi in quanto combinando i numeri primi possiamo ottenere tutti i numeri del mondo e loro non hanno niente di sotto quindi diciamo come si credeva nell'antichità che l'atomo fosse indistruttibile e inaccessibile al suo interno così il numero primo non può essere ulteriormente scomposto e ridotto un numero semiprimo un numero composto lo possiamo semplificare diciamo fattorizzare e scomporre nel prodotto di tutti i numeri primi che sono al suo interno ripetuti diciamo anche più volte allora atomi sfuggenti e la sequenza ve l'ho messa come sempre diciamo successivamente questa è un appendice la sequenza è 2, 3, 5, 7 11, 13 7, 19 23, 29 31 poi si prosegue 37 ci fermiamo a 31 quindi questo è il numero di sillabe all'interno di ogni verso e abbiamo sempre un acrostico che indovinate un po' quale sarà nati un giorno mentre un astro esplodeva lucente rischiarano rischiarano le nottate di tutti i sognatori che tentano in vano di penetrarne il motivo di fondo quella melodia Riemann ascoltava estasiato senza però escogitare in quale modo si dimostra come mai gli zeri della sua funzione zeta in corsivo mai si scostano dalla rotta essi imposta molti e più ci proveranno in avvenire intanto che le stelle cadono in risorgo i primi ammiccano uno speme ma riposta allora l'acrostico è numeri primi il titolo è atomi sfuggenti e il contenuto il senso ve lo vado subito a illustrare nati un giorno mentre un astro lucente esplode esplode a lucente cioè il big bang cioè il nostro universo si è creato così anche il numero c'è una branca che si chiama filosofia della matematica che si pone domande proprio complicatissime alla base di tutto che cos'è un numero? cioè uno è sempre esistito l'abbiamo creato noi che cosa rappresenta? davvero non sto scherzando è complicatissimo cioè le risposte non riusciamo manco ad averle c'è un filosofo molto importante in questo campo che è Hillary Putnam non so se qualcuno l'ha sentito rischiarano le nottate di tutti i sognatori che tentano in vano di penetrare nel motivo di fondo allora qui ho detto più cose rischiarano gli astri quindi sono come diciamo le stelle del nostro universo ma in questo caso mi riferisco ai matematici i sognatori che tentano in vano di penetrare nel motivo di fondo è perché c'è proprio un libro e c'è appunto la possibilità di sentire la musica di numeri primi c'è un libro che io ho comprato è bellissimo di Marcus Dusautoi mi sembra che si chiama The Music of the Primes la musica di numeri primi possono essere suonati c'è anche un'applicazione online potete proprio sentire la musica questa musica è come una pioggia è casuale ma ha un'armonia interna e la funzione di Riemann appunto che viene citato che è colui che ha diciamo creato il più grosso problema aperto della matematica moderna l'ipotesi di Riemann che è un problema che sostanzialmente dice c'è una retta critica su un piano quadridimensionale con asse verticale immaginario e asse orizzontale ascissa diciamo reale che è sempre dritta cioè questa cosa corrisponde a immaginate la funzione in 3D tutte le valle in tutti i punti in cui queste montagne vanno dei punti a zero quindi a livello del mare tutti questi punti sono allineati su una linea su una retta si chiama ipotesi perché è talmente ormai comprovata che tutti la danno per buona ma manca una dimostrazione non si sa neanche se si possa dimostrare con la matematica moderna utilizzata cioè se il sistema di assiomi che possediamo nella nostra matematica è abbastanza vasto da poterla dimostrare questo ci riporta ai due teoremi dell'incompletezza di Getel che dicono appunto che dato un sistema di assiomi non tutto quello che si trova all'interno del sistema di assiomi cioè tutto quello che si trova in giro è dimostrabile utilizzando il sistema di assiomi stesso comunque elementi all'interno dell'insieme sostanzialmente dovremmo forse inventare una nuova matematica per poter dimostrare l'ipotesi di rimane non si sa neanche se è dimostrabile eppure essendo vera ci sono delle cose che se diamo per buoni teoreme dell'incompletezza di Getel che possono essere veri e indimostrabili ok finendo la poesia poi basta la funzione z è quella che vi ho descritto si chiama funzione z di Lehman ma si scostano la rotta e si imposta la rotta e si imposta è una metafora significa sia la linea dritta appunto dei numeri primi che si chiama cammino critico sia la rotta per mai perché se sono delle stelle come ho detto prima i navigatori matematici che si avventurano non hanno la certezza di arrivare anzi tutti quelli che ci hanno provato sono impazziti hanno dovuto desistere vi faccio qualche nome così tanto per John Nash convocò una conferenza nella quale annunciava di aver risolto no non la convocò in realtà prese diciamo parola annunciò un suo intervento a questa conferenza americana famosissima nella quale annunciava di dimostrare l'ipotesi di Lehman il primo al mondo ancora adesso dopo 130 anni ancora è risolta Lehman allievo di Gauss a Gottinga ma in realtà in pazzie iniziò a scrivere cose senza senso e da allora cioè fu internato quindi fu ricoverato sotto Torazina in quanto era impazzito è quella che poi nel film Beautiful Mind di Russell Crowe si vede insomma lui che viene fermato mentre sta facendo le cose di matematica è un po' romanzato ma è la realtà altri nuovi importanti Grotendiek vincitore della medaglia Fields che poi in pazzie iniziò a credere che la velocità della luce fosse stata alterata dal demonio da un perfetto 300.000 km al secondo a un imperfetto 299.000 rotti e andate a vivere su delle montagne dopo aver vinto la medaglia Fields essersi licenziato dalla cattura di professore perché non condivideva uno dei finanziatori dell'università che era per lui un antagonista politico uno che aveva diciamo contribuito a a combattere la Russia e il capitalismo cioè un capitalista insomma lui era contrario altri nuovi importantissimi di altre persone che sono impazziti ce ne sono davvero tanti ma sostanzialmente tutti quelli che ci hanno provato hanno fallito con l'ipotesi di Riemann a meno di non ridursi a a delle piccole piccole avanzamenti per dire ok non abbiamo dimostrato ma abbiamo escluso dei casi abbiamo ridotto l'intervallo possiamo fare piccolo a piacere ma non è che cioè non è che vale in generale sono diciamo delimitiamo il territorio è come dire non so quanto vale radice di 2 però posso dire che è maggiore di 1 e minore di 3 anzi minore di 2 ho fatto un progresso sì però non è che ha risolto il problema non è che l'ha espresso con un numero reale allora molti più ci proveranno in avvenire perché è inevitabile che questa fine la faranno anche altre persone in futuro intanto che le stelle cadono e risorgono cioè un ciclo continuo entro prima aumenta ma il mondo va avanti i primi ammiccano la speme ma riposta perché i primi sono sempre là ad invogliarci ad arrivare a comprenderne la struttura la disposizione l'ipotesi di Rima nella disposizione di numeri primi quello significa tuttavia la speme ma riposta perché finora abbiamo fallito una conseguenza e poi proporrò anche un test un mini test di criptografia non so se inserirlo nella range che proporrò settimana prossima o farlo a parte la criptografia moderna il metodo RSA l'algoritmo a chiave pubblica più famoso del mondo il primo a essere creato e anche tuttora utilizzato si basa sul prodotto di due numeri primi abbastanza grandi di dimensioni simili qualora venisse dimostrata effettivamente l'ipotesi di Rima una delle conseguenze immediate è che si potrebbe avere una funzione invertendo una funzione che genera numeri primi e quindi la sicurezza informatica verrebbe meno le nostre transazioni bancare il mio account youtube questa conversazione potrebbero essere intercettate alterate espiate a piacimento da personaggi estranei che non hanno il codice cioè non è il controllo accentrato degli Stati Uniti ma è proprio la capacità di un hacker di una persona di crackare il codice il codice che in realtà è alla base il metodo insomma i codici che sono in realtà alla base della nostra vita quotidiana la nostra sicurezza delle chiamate del conto in banca e di qualsiasi altra nostra transazione adesso è uscito un metodo simile che si basa da un po' di anni si basa sulle curve ellittiche altre strutture matematiche utilizzate da Sir Wiles per dimostrare il teorema di Fermat l'ultimo teorema di Fermat questo per fare una parentesi ma diciamo sono i due capisaldi della criptografia la criptografia a chiave pubblica quella che ti dice ti spiego il metodo non devo tenere segreto il metodo e tutto però tu non riuscirei comunque a 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 la lavagna e concludo poi passo ai saluti e a leggere i vostri commenti scusate un secondo dicevo intanto parlo ok devo prendere l'angolo giusto che sostanzialmente la creatività è fondamentale anche in campi nei quali sembrerebbe estranea come la matematica la creatività permette all'uomo di progredire altrimenti rimarremmo vincolati rimarremo vincolati al pensiero fatto da altri ripercorreremmo sempre la stessa strada o proveremmo ad andare oltre dal punto nella quale il pensiero precedente è finito ma con gli stessi limiti a meno di non avere un potenziale maggiore ma dopo un po' avremmo facciamo fatto tutti i record nelle varie discipline e rimarremo lì invece la creatività permette proprio di esplorare nuovi mondi di trovare scorciatoi di trovare nuove strade quindi vi consiglio tantissimo gli esercizi che vi ho spiegato all'inizio del video poi fatemi sapere questo è un canale per è il canale più intelligente che vi rende più intelligenti ma intelligenza fa anche diciamo comprende anche la creatività quindi non è solo quel senso intellettivo è anche capacità di di ragionare in maniera originale ciao francesco luigi spezzano sei entrato adesso nel hangouts no ti ho messo paura ok se vuoi rientrare mi fa piacere parlare con te quindi chiunque volesse intervenire il link è su facebook per un'altra mezz'oretta stiamo insieme potete intervenire anzi mi fate anche riposare la voce che l'ho sforzata abbastanza per parlare a tono sostenibile quindi è fondamentale allenare entrambe non tutti gli uomini sono dati di creatività ma si pensa che il 98% delle persone abbiano la possibilità di sviluppare un pensiero creativo e di migliorarlo quindi ci sono dei casi tipo Lemon Tree la canzone che ho detto prima senza speranza in cui si vede solo quel giallo albero di limoni e alla fine dici si è di sopra e ti chiedi perché la mia ragazza mi ha lasciato e continuo a immaginare il cielo blu quando io non riesco a staccarmi da questo maledettissimo albero di limoni ma in tutti gli altri casi è possibile basta volerlo basta essere interessati trovare la propria passione e poi seguirla e diciamo farla fruttare questo questo più o meno è il senso della live mi hanno sempre chiesto tanti la creatività il cui è la creatività io vi ho dato una risposta ho preferito darvele live perché in un singolo video non sarei riuscito a spiegare concetti così complessi Francesco credo che voglia entrare ma abbia dei problemi tecnici ora non vi so dire ma è sufficiente accettare l'invito su Hangouts munirsi appunto di microfono anche auricolari basta inserirli e parliamo quindi una videocamera incorporata nel computer è più che sufficiente possiamo anche parlare anche senza video volendo cioè puoi anche disabilitare il video quindi non sei costretto devi accettare i plugin quindi quando ti chiede poi di accettare tu dici hallo e niente hallo la creatività la creatività è la base delle scoperte più grandi ora è purtroppo necessaria anche della conoscenza cioè è difficile inventare la ruota ma possiamo sviluppare una macchina competitiva anche con idee creative è il caso della Red Bull con Adrian Newey che riuscì a vincere il mondiale a avere una macchina super competitiva a bassissimo budget perché ebbe un'idea che nessun altro aveva avuto in Formula 1 aprire un buco sotto la macchina quel buco risucchiava aria e sostanzialmente aumentava l'aderenza una specie di minigonna ma nessuno ci era arrivato era compatibile con le regole poi ha dovuto rifare le regole ecco le stanno tutti per impedirli di continuare lui ha avuto altre idee sull'aerodinamica e quindi è riuscito a colmare un gap tecnologico di investimenti enormi con un'idea un'idea rivoluzionare che nessuno aveva avuto quella è genialità la creatività il cui molto spesso danno il genio il cui da solo uno sterile potenziale che molto spesso rimane inespresso mi si chiedeva in relazione all'altro video che ho fatto su chi ha il quotiente intellettivo più alto del mondo eh ma il cui di Tesla il cui di Tesla non ve lo so dire ma penso sia stato comunque molto alto sicuramente oltre 170 punti e sicuramente molto più alto di un Edison Edison era un contemporaneo che all'epoca era già famoso affermato Thomas Edison quello della lampadina e Tesla andete a lavorare negli Stati Uniti come diciamo anche garzone come diciamo operaio per pagarsi e mantenersi lì finché poi non fu notato da J.P. Morgan è proprio quello delle banche è proprio quello il più furbo di tutti e niente alla fine prima di impazzire riuscire ad avere un buon successo e inventare la corrente alternata non l'ha inventata però il modo per immagazzinare no immagazzinare utilizzarla non si immagazzina l'elettricità comunque Edison è famoso per un aneddoto cioè diciamo il paragone tra Tesla e Edison per cercare un ago in un pagliaio Edison avrebbe scansato ogni singola pagliuzza alla ricerca dell'ago e alla fine dopo un lavoro ma studontico metodico ma molto preciso sarebbe riuscito forse a 90 anni a trovare l'ago Tesla sarebbe andato lì con una calamita un elettro calamita e l'ago sarebbe andato da lui questo per farvi capire quanto può risolvere un cambiamento di paradigma tante soluzioni possono essere in matematica possono essere risolte andando di forza brutta come in crittografia o avendo un'idea rivoluzionaria che complica magari concettualmente la struttura ma permette poi di semplificare tantissimo tutto il resto questa questa è la mia idea io adesso torno su youtube e parlo un po' con voi Ugo Gatto mi ha dato un numero assurdo e immagino essendo superiore di 10 che non sia la risposta al mio quesito basta parlare a gente che impazzisce sta andata sognando di essere 4 persone diverse eh Alessia pure te non stai bene 6 linee linee sono di legno restando un quadrato 4x4 poi li monti sarà Alessia da come soluzione 4 una 4 è errata in realtà vi aiuto vi semplifico il problema quella soluzione che vi ho dato è equivalente ad altre 16 a meno di rotazioni cioè con le rotazioni altrimenti altre 3 possono essere risolti l'ho dimostrato in un paper tutte le griglie 4x4 partendo da un punto qualsiasi o anche partendo da punti esterni ma nello specifico partendo tutti tutti e 16 punti la griglia possiamo risolvere ma non possiamo risolverla restando all'interno dei 4 quadratini che fanno la cornice quindi 4 non è la soluzione corretta ora sapete che è un numero tra 4 diciamo tra 5 perché 4 escluso e 10 con 10 escluso quindi 5 6 7 8 9 ditemi il numero ma ditemi anche il perché questo avviene fatemi vedere una soluzione se vi fa collegatevi su hangouts o mandatemi magari lo screen su facebook mi taggate e poi niente mi fate vedere come l'avete fatto a quel punto io vi chiederò e però non lo so se vi ho detto che 10 non va bene perché non è il più piccolo numero ma dimostratemi come fate ad allargare il vostro metodo per dimostrare che anche 10 ricata all'interno della griglia questo è un problema reale un esempio di problema che all'epoca era aperto poi l'ho dimostrato facilmente allargando non mi sono limitato a questo ovviamente un paper non l'avrei mai pubblicato ma è una prova per cimentarsi con problemi dove la creatività va sposata con la pressione con la concretezza cioè la base per diventare degli innovatori degli scienziati per pubblicare un paper di matematica un campo scientifico cioè arrivare a questo tipo di abilità arrivare ad essere capace di avere l'idea e poi di concretizzarla di renderla strutturata coerente di renderla efficace e precisa nella sua spiegazione allora torno nelle domande è la velocità della luce ok forse non l'avevo notato ma si è un numero importante no Marco niente era fuori dalla scatola allora niente solo dai 5x5 in su Alessia dice 5 vorrei anche che rispondesse qualcun altro direi sempre tu e dare risposte vabbè un saluto ti devo lasciare ciao Stefano Memorioli Stefano è un ragazzo con 160 certificati di qualsetto intellettivo di azione standard 15 di stato nella World IQ Foundation quindi proprio un vero exceptionally gifted che ho l'onore di avere tra chi mi segue sul canale quindi il canale più intelligente di Youtube oppure tra le persone che interagiscono e lo seguono delle persone realmente tra le più intelligenti in Italia un salutone ognuno tenti un numero allora io vi posso anche dire il numero però poi dovete anche spiegarmi il perché dovete farmi vedere la soluzione e spiegarmi il perché Alessia ha detto 5 5x5 ci scommetto due biscotti al cioccolato vabbè hai vinto due biscotti al cioccolato allora la risposta è 5 non potrei non avrei mai potuto far darvi un problema che aveva come soluzione 9 o 8 cioè sarebbe stato troppo per una live ok devo riprendere la lavagna allora adesso vi devo dire ok però spiegatemi come sia possibile che con 5x5 tu rimani all'interno del box e come fai da 5x5 a passare a 6x6 a 7x7 aggiungendo ogni volta due linee tu aggiungi uno nella dimensione dei puntini per righe e per colonne e aggiungi due linee come fai? mi fate vedere uno schemino un disegnino qualcosa? è un problema vero è un problema che dimostra proprio mette alla prova la vostra capacità è il potenziale cognitivo e lo allena quindi quando arriverete alla risposta riciclerete i pattern che vi ho dato e avrete fatto un esercizio davvero efficace riprendo allora a questo punto la lavagna e vi faccio vedere la soluzione sono costretto voi sbrigatevi perché avete ancora a disposizione qualche secondo anzi diciamo un paio di minuti prima di avere la risposta e poi passare ai saluti e chiudere la live rimandando il tutto ai prossimi test che pubblicherò nel canale ci sarà una sorpresa a fine aprile dovrei anche presentarvi il mio socio nei test ai range quindi li presentiamo in anteprima quando saremo vicini appunto a fornirveli li stiamo sviluppando in questo periodo quindi mi scuso per i video magari ne farò qualcuno di meno perché sto lavorando anche a quello allora 5x5 5 pallini 2 3 anzi li metto più vicini se no rischio di andare fuori 3 4 5 devo disegnare tutti questi pallini purtroppo per diciamo spiegarvi il criterio allora io vi do un'idea però perché non è una domanda fatta a caso la scatola all'interno della quale rimanere è questa quindi un esempio delimitiamola così è anche più piccola ma già questa è sufficiente il criterio che vi avevo consigliato era quello di riciclare la soluzione che vi avevo già dato per il caso 3x3 che era questa la soluzione per il caso 3x3 la disegno qui quella originale di problema aveva questa soluzione ok allora scusate un attimo vediamo che prendo un foglio non so più dove trovarlo mi ero appuntato il tutto prima di di fare cretinate ok allora immaginiamo ad esempio questa soluzione qui questa qui la ruotiamo la posizioniamo per così la possiamo fare in tutti i modi ma almeno siamo coerenti quindi diciamo così ok questa è la stessa quindi posso partire da un punto qualsiasi posso rispondere alla domanda anche così cioè 3x3 significa anche questo ve lo faccio ripetere con lo schema che ho utilizzato prima cioè significa anche questo no che cosa ho fatto così così ok queste queste quattro le andiamo a posizionare nella figura originale quindi diciamo da qui allora vado 1 2 potevo proseguire quindi possiamo allargare allora aspetta qui sono partito dal punto sbagliato purtroppo da qua 1 2 3 4 posso decidere arbitrariamente in cui direzione andare quindi fare anche 1 2 3 4 5 a questo punto è risolto il problema a questo punto dobbiamo soltanto andare a spirale e il trucco è proprio proseguire a spirale quindi io dovevo eliminare questo problema qui cioè nel senso che nella griglia 3x3 io ero fuori nella griglia 4x4 io avevo due punti questo e questo esterni non riuscivo con una linea sola a chiudere perché le linee dovevano essere connesse quindi se andavo qui poi non potevo riprendere e andare da qua quindi proseguendo ora a spirale posso risolvere tutte le successive griglie se la griglia fosse 6x6 qui ci fossero 6 pallini qui e chiaramente sulla sulla colonna io potrei semplicemente proseguire arrivare qui e proseguire ogni volta aggiungo due linee e con due linee io chiudo una dimensione perché uno un pallino più per righe per colonna una fila in più quindi la soluzione è proprio 2n-2 che può essere riscritta semplificata come 2xn-1 questa è la soluzione questa è la dimostrazione che almeno quindi bisogna essere precisi ma si possono utilizzare almeno o anche meno da 2n-1 righe in giù poi questa è la soluzione ottimale ma se fossimo dei matematici dovremmo esprimerci così una pecora almeno da un lato che sto vedendo ora è nera dall'altro lato può essere anche fucsia cioè io sto vedendo quello e devo dire quello di cui sono sicuro non scambiare il modus tollens per il modus ponens come metodo di ragionamento che sarà poi l'oggetto di un video successivo che mi ha consigliato tra l'altro Alessia quindi poi la ringrazierò anche nel video perché mi è passato questo stupefacente controintuitivo esercizio che ho citato prima il nome dell'autore non vi dico poi di nuovo lo vedrete nel test che vi proporrò un test che il 95% le persone sbaglia risponde sbagliato una domanda molto semplice che però pone delle difficoltà per come è stata posta per diciamo dei bias logici che vi ho detto prima cioè la difficoltà delle persone di mettersi in discussione cercano conferme e non diciamo metodi per verificare le proprie ipotesi e convinzioni questo ne è un esempio tangibile il metodo è questo la spirale è quella ve lo faccio rivedere faccio rivedere la soluzione qual è ciao ciao ah faccio rivedere la soluzione un po' e ti saluto la prima linea una due tre quattro cinque vabbè e insomma si prosegue a spirale poi così sei sette otto in questo caso il numero minore è cinque n uguale a cinque è la soluzione e utilizzo otto linee ok ora tolgo la lavagna e faccio una chiacchierata con francesco e poi ci salutiamo e saluto tutti dalla chat mi siedo se no rimanere in ginocchio non è cioè piegati non è il massimo dimmi ciao francesco ciao marco ciao dimmi tutto scusa ritardo insomma di cosa avete parlato finora puoi alzare un pochino l'audio ti sento un po' basso sì sì abbiamo parlato di pensiero creativo poi vatti ovviamente ti andrei a rivedere tutta la live e darò dei consigli nella live per migliorare il proprio potenziale creativo esercitarsi giorno per giorno e anche razionalizzare il pensiero per renderlo creativo noi possiamo scegliere di essere più o meno originali nelle risposte di trovarne di più o di meno ma avere questa capacità e potersi orientare sul cui quindi trovare la soluzione precisa la migliore possibile definita secondo i dettagli specifici in maniera appunto dettagliata oppure spaziare su tanti campi dare tante soluzioni fare un flusso di idee scriverle ad esempio su un foglio e poi col pensiero critico andarle a scegliere quindi possiamo avere poi delle soluzioni non all'apparenza ottimali o proprio non ottimali che però sono più efficaci di altre perché magari più originali perché hanno delle caratteristiche peculiari che le fanno essere vincenti tu cosa ne pensi? no io in realtà ho approfondito questi studi insomma quindi ah bene sì per conti miei quindi alla fine dato che vorrei aprire io un'impresa di start up ottimo mi interessava insomma questa live e ho approfondito questi studi e ho ricercato soprattutto un po' come come è possibile rendere un gruppo creativo insomma attraverso delle tecniche o comunque dei consigli o cose così e insomma come cioè ho sempre trovato il pensiero creativo soprattutto la cosa importante che è come non so se conosci Edward De Bono non so se il nome non l'ho sentito bene perché è un po' basso dimmi bene De Bono De Bono De Bono? sì l'ho sentito ma non non ce l'ho ben presente va bene comunque è uno scrittore che è uno psicologo americano che si è occupato di trattare il tema di questo tema e è approfondito ha esposto anche lui delle delle tecniche la tecnica dei sei cappelli non so se la conosci no io le varie tecniche le avevo buttate giù facendomi una scaletta cioè nel senso ho utilizzato io un flusso di pensiero e mi sono appuntato alle pari idee ok sono originali cioè la caratteristica è questa perché anche danno poi dei metodi già collaudati oltretutto non avrei fatto un gran servizio cioè li potete comunque anche trovare altrove invece io diciamo ho utilizzato un metodo mio per poi pagliare ciò che secondo me è efficace qualche cosa ho detto comunque cioè si riprende da ciò che uno impara ciò che vede e però si deve anche essere originali nella nella personalizzazione delle idee stesse quindi ho proposto proprio degli esercizi ho dei metodi ho degli esempi qualche esempio originale altri esempi sono già stati fatti ho detto per esempio quello che mi aveva posto Lex quando poi mi testò all'inizio e ve l'ho ve l'ho dato insomma ve l'ho proposto però questa live ci tiene a diciamo specificare una cosa la live no io che conduco la live ok cioè che la creatività va modulata ed è differente a seconda del contesto per esempio ho parlato di tecniche anche di marketing una domanda Marco te la posso fare per coinvolgersi a persone come se ci fosse un interlocutore singolo e fosse composto da un bambino media età delle medie neanche troppo intelligente utilizzare degli slogan utilizzare dei brand o comunque qualcosa che ti rende riconoscibile nel caso dei colori utilizzare ad esempio un colore unico o più colori che poi vengono utilizzati nel brand e anche nel sito in quello che vai a creare insomma ho detto delle metodi che potrebbero essere originali potrebbero essere create e utilizzate per ad esempio fare trading anche se sconsiglio di farlo ma ho per esempio sviluppato un metodo mio l'ho spiegato in alcuni casi potrebbe essere buono chiaramente non è un metodo statico è un metodo che richiede una banca dati richiede tanto lavoro no ti volevo chiedere ti volevo porre una domanda certo la distinzione secondo te c'è una distinzione la distinzione che tu cerchi secondo te in generale si parla di creatività in senso lato no ma naturalmente c'è una creatività che si applica a contesti artistici una creatività che si applica in ambito scientifico io tra le righe avevo risposto cioè io definisco creatività c'è anche un test che proprio lo fa in maniera oggettiva ma io non sono perfettamente d'accordo con quel test e lo dico lo spiego nel mio video alla formula dell'intelligenza è la seconda parte quindi lì proprio vi spiego come cosa è secondo me l'intelligenza e le varie componenti la creatività controbilancia il quotiente intellettivo ed è su un livello inferiore secondo me il quotiente intellettivo è superiore alla creatività ma per dei motivi che vado a dire in campo artistico può essere buono ragionare in maniera diversa e fuori dagli schemi può essere apprezzato solo per quello e comunque la creatività è la capacità di trovare tante soluzioni anche non ottimali che toccano tanti campi immaginiamo un pittore un pittore può avere tanti stili può avere tanti modi di tanti tipi di quadro diversi anche se magari focalizzati su dei periodi con delle idee dietro e ogni tipo di quadro aumenta di valore in quanto ce ne sono altri diversi uno che fa sempre le stesse cose non va lontano tuttavia anche il fatto che quel modo di dipingere non sia il migliore possibile ottimale ma va a solleticare ad esempio la fantasia di alcuni può essere un punto a proprio favore cioè Picasso aveva la sua caratteristica quella di disegnare cose che potevano essere rielaborate dalla mente della persona in maniera differente certo così come gli scrittori lui dice cioè io ho lavorato tutta la vita per disimparare a fare cose che avessero un'unica chiave di lettura per disimparare a dipingere e farlo in maniera estemporanea e naturale quindi come un bambino e in campo scientifico invece è buono avere tante teme ma poi bisogna razionalizzarle e valutarle col pensiero critico e quello per me rientra nel campo del cui cioè valutare tra le varie ipotesi quindi creatività la migliore per il tuo contesto e poi spiegarle in maniera precisa e svilupparla secondo un metodo logico coerente e preciso per quello vi ho fatto quell'esempio del problema dei nove punti era proprio per questo per abituarvi a switchare tra creatività e cui quindi accoppiarle per avere poi delle idee appunto geniali magari la startup necessita di un'idea originale uno ha l'idea buona ma ne può avere anche più di una e poi valuta la migliore una volta che uno l'ha valutata deve anche poi impostare tutto con un business plan con un metodo appunto per avere il punto di pareggio per stimare tutto quanto e massimizzare magari l'utile il ricapo sperato quello che vogliamo quindi poi a quel punto si entra in un campo convergente ma una volta che uno è partito quindi diciamo la spintarella la deve dare la creatività certo 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 condivido pienamente infatti penso che nella creatività in ambito scientifico nell'elaborare una teoria è necessario molto pensiero critico il pensiero critico è legato al quoziente di intelligenza cioè comunque è necessario è necessario un tipo di creatività diverso e nello stesso momento nel momento in cui astrai a livello mentale devi anche senti Marco sì sì ti sento no io nel campo scientifico avevo detto diciamo il senso era questo in matematica le migliori cose si fanno sotto i 30 anni massimo 35 la medaglia Fils la danno sotto i 40 anni perché le idee le devi avere quando sei giovane e creativo poi crescendo tu puoi sviluppare delle idee che già hai avuto ci sono tantissimi casi il Nobel lo vinci in vecchiaia però lo vinci in vecchiaia in virtù di magari cose che hai iniziato 20 anni prima 30 anni prima e quindi secondo me la creatività è l'input iniziale oppure può essere anche buona per diciamo rilanciarsi rimodernarsi quando uno ha un periodista un'impresa un'iniziativa non va più bene un pittore fa sempre le stesse cose magari ti cambia la vita ti cambia il modo di rapportarti col mondo e tu riesci a sviluppare una nuova avere una nuova marcia infatti dicevo tra i vari consigli che avevo dato se volete vi rileggo anche c'era appunto quello di riuscire a ragionare in maniera diversa quindi ad avere una marcia in più a sviluppare un modo di pensare non convenzionale farlo la persona stessa è difficile essere appunto critici verso se stessi e cambiare modo di pensare per questo può essere utile anche rubare delle idee e poi personalizzarle quindi anche imparare studiare e richiamare dalla memoria nozioni e concetti che abbiamo può essere utile perché a quel punto uno può cambiare qualcosina e andare su una strada nuova posso fare una domanda Marco? sì secondo te in ambito nella scuola la creatività è possibile è difficile cercare di far convergere due aspetti così penso difficili qual è l'aspetto del creativo e comunque l'apprendimento scolastico nel momento in cui si impara qualcosa è difficile poi riuscire a per esempio in matematica no? sì ci viene insegnato un metodo no? chi lo dici io mi ero preso degli insulti dai professori ti do il debito o cose così perché trovo soluzioni originali e per me risultava tutto scontato cioè i passaggi risultavano automatici non riuscivo a formalizzarli naturalmente li saltavo stessa cosa lo fece Galois che fu cacciato dai colpolitecniche dall'università insomma non fu preso perché era troppo saltato troppi passaggi tuttavia la scuola ti viene detto devi imparare quindi imparare il metodo per poi poter poi fare di testa tua cioè tipo Leopardi che sapeva scrivere benissimo una piccola dice ok allora poi scrivo a modo mio non lo so Picasso dicevamo sapeva disegnare bene a 15-16 anni allora ok ora disegno a modo mio questa è la spiegazione che danno ma non è non è la realtà non è l'ottimale bisognerebbe avere un percorso individualizzato personalizzato a seconda delle varie individualità quella vera diciamo uguaglianza sostanziale si concreta nella valorizzazione e nel supporto dell'individualità non siamo tutti uguali non pensiamo tutti allo stesso modo allora perché omologare il pensiero ecco quella era la domanda in sostanza cioè comunque come dire saper valutare l'aspetto creativo di una persona in ambito scolastico è un po' difficile sì valutarlo a scuola è difficile ma i tester qui secondo me sono utili per questo motivo perché danno comunque un'indicazione del potenziale anche creativo almeno sono correlati bene fino a circa 120 punti dicevo scusa mi stanno lasciando tutti quindi vi faccio un po' di saluti e poi devo chiudere perché è comunque un po' di teore che sono qui quindi mi diceva Davide C io pensavo che Marco voleva che noi spiegassimo perché c'è un minimo no no questo non non pretendo questo essendo un problema sostanzialmente aperto no infatti non è impossibile ma è complesso allora saluto tutti saluto Davide C Miriana Lallo ciao ciao Ale ciao Alessia e niente quindi io diciamo passo ai saluti ma se vuoi una battuta finale te la lascio visto che sei intervenuto te la lascio volentieri nulla? no in realtà non cioè non 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 mi veniva niente da chiederti allora salutiamo insieme dai visto che questa volta siamo stati in due a fare una piccola chiacchierata mi ha fatto piacere tutti mi dicono ah perché all'inizio mi sembravi elitarista un po' sulle tue spocchioso però in realtà sono così è semplicemente che non si può rapportare in maniera diretta tramite un video che faccio poi pubblico oppure tramite un commento è un canale così anzi io a differenza di tantissimi youtuber sono sincero quindi dico le cose che penso non ho paura a esprimere le mie opinioni mentre molti altri anche più grandi ovviamente sono anche vincolati a ciò che piace al pubblico io sono costretto a dire cose che non offendono un numero vasto di lettori quello beh è una buona norma ma non è non è che devo prostituire il mio modo di pensare le mie idee a quello che pensa la maggior parte delle persone che mi seguono perché non avrebbe senso mi riduco a essere schiavo del mio canale insomma non mi piace è meglio come dire confrontare un confronto di idee certo e poi dalla pluralità di punti di vista nascono anche le soluzioni geniali nascono si cresce cioè per avere una prospettiva bisogna avere almeno due punti di vista i nostri occhi sono due e distanti perché ci permette di apprezzare tre dimensioni questa è la realtà se tutti fossimo sempre d'accordo e ragionassimo in maniera unica non avremmo crescita certo a me fa piacere parlare con persone all'altezza cioè ci deve essere un dialogo di un certo livello non è che posso accettare quei discorsi beceri che ho ricevuto nei commenti del video sul calcio perché non mi fanno crescere sono insulti cose che mi vengono attribuite che non ho pensato mentre facevo il video quindi figuriamoci se le ho dette convinto di offendere qualcuno allora dai quasi due ore io saluto tutti vi ringrazio ringrazio Francesco Luigi Spezzano che ha partecipato in diretta io lascio le live sempre aperte a tutti non censuro nulla quindi proprio un canale completamente trasparente e intelligente e infatti soprattutto grande e ovviamente tutti iscritti like condividiamo perché dobbiamo combattere l'ignoranza imperante su youtube indipendentemente da se uno abbia piacere a seguire un gamer a seguire un blogger a seguire una determinata categoria ma dobbiamo anche far passare dei messaggi positivi utili non possiamo illudere abbiamo due milioni di iscritti e li illudiamo che il mondo è fatto di videogiochi perché potrete poi un giorno attivare la monetizzazione e campare di quello e ridere in faccia tutti quelli che hanno passato vent'anni a studiare a documentarsi a spaccarsi la schiena no questo uno dovrebbe dirlo dovrebbe essere sincero verso se stesso condivido grazie allora dopo questa attestazione di stima e condivisione io chiudo la live vi saluto vi rimando ai prossimi video e i test high range che per la prima volta proporrò in video quindi vi proporrò proprio un vero test high range e l'altro video bomba che è in attesa devo ancora realizzarli ci vorrà del tempo devo fare ancora i test dinamici quindi non vi aspettate una frequenza altissima ma almeno due video a settimana io li condivido e questo secondo video sarà controintuitivo al massimo sarà appunto un problema che non risolve il 95% e oltre delle persone un problema facilissimo fatto con 4 carte vi si chiede girare 2 carte per avere un'informazione è incredibile ma quasi tutti sbagliano rispondono quasi tutti la stessa cosa sbagliata se vi è piaciuto il mio precedente video quello con le 3 domande che non risolveva quasi nessuno neanche all'MIT al Massachusetts Institute of Technology e ad Harvard allora questo video sarà imperdibile ciao ciao un saluto ciao Francesco ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti